In fase di stasi, l'audace Cerignola, ottime indicazioni continuano ad arrivare dalla difesa, qualche problema in attacco dove Raffaele deve sciogliere i dubbi sul sostituto di Cuppone, nello 0-0 contro la Casertana, il rammarico e il non aver sfruttato la mezz'ora di superiorità numerica, poco quanto nulla nella metà campo offensiva, ma la classifica resta davvero incoraggiante. Gol cercasi in casa Cerignola, all'asciutto nelle ultime due uscite, Raffaele deve ovviare alle assenze di Cuppone e Yallou, Salvemini è la certezza, il Valser al suo fianco premia questa volta Galliano a discapito di Fagioli, nel 3-5-2 capomaggio centrale con Gonnelli e Vicentin, coce russo in corsia, il trio Ruggero, Tascone e Paolucci a dare muscoli e geometria in mezzo al campo, Sorriso Casertana dove il primo successo in campionato, Manuel Tagliori riabbraccia Bacchetti in difesa, pochi punti di riferimento con Deli centravanti, c'è Carretta alle sue spalle nel 4-2-3-1, il primo tempo scorre via veloce, al diciannovesimo e il diciannove ospite con Lodell a dare la prima scorsa all'incontro, destro coraggioso ma non è granché, Idem il successivo tentativo di Deli, due minuti di fuoco Casertana tra il 42esimo e il 44esimo, Ainz si sgancia la sua maniera, Saracco è bravissimo nel deviare con le unghie, sul successivo corner è Pallino a godere di libertà dal limite, volé bella stilisticamente, altrettanto la respinta del sempre pronto Saracco, ad inizio ripresa Raffaele inserisce Velázquez avanzando il raggio d'azione di Capomaggio, con lui anche di Dio per dare una soluzione diversa al fianco di Salvemini, all'ora di gioco spazio anche a Sainz Maza, lo spagnolo ci mette 60 secondi per farsi notare, Contec entra in maniera troppo energica, secondo giallo in 7 minuti e Casertana in 10, l'audace ora ci crede, Russo con l'esterno da Tascone, Rasotera per Coccia che in corsa toglie le ragnatele da sotto l'incrocio, gol bellissimo ma è tutto vanificato da un fallo di Salvemini a centro aria, Ofantini bene in ampiezza soprattutto a sinistra, Sainz Maza a tempo non riuscendo a tenere bassa la traiettore del suo cross, l'acuto potrebbe arrivare all'ottantunesimo, Russo indica la traccia a capomaggio, Salvemini riceve solo in aria calciando addosso a Zanellati, poi Bakayoko stende lo stesso Russo che rientrava dall'offside, niente rigore, la Casertana prova addirittura a infilarsi tra le maglie cerignolane, Bakayoko fa fette la difesa partendo da destra ma è murato al momento della battuta, su questa ciabattata volante al 96esimo di Vicentin si spengono le speranze dell'audace cerignola a secco di gol e vittorie da tre turni ma inconfortante zona di altissima classifica, ragazzi di Raffaele attesi domenica 6 ottobre dalla trasferta di Torre del Greco contro la Turris, impegno interno per la Casertana contro il Catania